Super bonus 110% non è detta l'ultima parola, forse potrebbe arrivare la proroga al termine ultimo del super bonus all'aliquota maggiorata del 110%. Qualche giorno fa ho pubblicato un video in cui dicevo come era stato presentato un emendamento in Parlamento in cui veniva richiesta la proroga della scadenza del super bonus. La scadenza veniva richiesta fosse prorogata al 30 giugno 2024. Subito mi sono arrivati i commenti al video dicendo che l'emendamento era stato bocciato e che in realtà non c'era nessuna proroga. Sì, questo è vero, però non è detta l'ultima parola, cioè non è detto che la proroga non arrivi. E in questo video vi voglio spiegare perché la cosa è un pochino più articolata e complessa di quanto si può immaginare. In Parlamento si sta discutendo la conversione in legge di diversi decreti e verranno presentati vari emendamenti. Vi spiego perché secondo me la proroga potrebbe arrivare. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere. Da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale. Cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale se vuoi sostenere il mio lavoro online. Nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di che cosa si tratta. Allora partiamo praticamente da un... Facciamo una premessa fondamentale. Come sapete il super bonus è con la sua liquida al 110, lo sapete benissimo, è alla scadenza, è ai suoi ultimi giorni. E da questo punto di vista vi ricordo che per le unifamiliari il super bonus cade al 31 dicembre 2023. Per gli edifici condominali è previsto l'utilizzo ancora della liquida al 90 o al 110% a seconda entro il 31 dicembre 2023. Poi nel 2024 si passerà al 70% e infine scenderà ancora al 65%. E bisogna dire che dal punto di vista delle scadenze il governo, l'attuale governo, è sempre stato molto coerente. Cioè non ha mai dato adito a poter sperare una possibile proroga. Sempre detto che le proroghe non ci saranno. Sia per me, diciamo, queste affermazioni molto chiare sono arrivate non soltanto da parte del Ministro dell'Economia e Finanze, Giorgetti, ma anche proprio dal Presidente del Consiglio, Giorgia Miloni. Detto questo, ricordiamo che i dati del super bonus forniti da Enea, aggiornati al 31 ottobre 2023, parlavano di 92 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. Quindi una cifra grandissima, che proprio a detta di Giorgetti era una cifra insostenibile e che ha messo in grave difficoltà quelli che sono le casse dello Stato. Per cui questo è, diciamo, evidente. D'altra parte bisogna dire che viviamo in un momento in cui tantissimi sono i cantieri ancora in corso, che sono stati avviati e che sicuramente non vedranno la fine entro il 31 dicembre 2023. Questo vuol dire grosse difficoltà per le imprese, per tutti coloro che sono impegnati nel settore delle costruzioni, sono impegnati direttamente o indirettamente nei cantieri e delle famiglie che si trovano magari fuori casa. Questi cantieri, bisogna anche dire che i ritardi nelle lavorazioni dei cantieri, in parte, sicuramente in buona parte, sono dovuti anche ai rallentamenti, i rallentamenti che ci sono stati, sono dovuti in buona parte al, diciamo, continuo evolversi, ma io direi involversi del quadro normativo che regola il super bonus con il famoso blocco della cessione dei crediti. Quindi, in parte, è colpa anche del, diciamo, del governo, dello Stato, dei governi che si sono succeduti, insomma. Ora, in questo quadro, in un quadro di questo tipo, io credo che sia dovuta una proroga, diciamo, del termine ultimo del super bonus, quantomeno per quei cantieri che sono già stati avviati e che sono praticamente quasi, possiamo dire, quasi alla scadenza. Ora, detto questo, fatta questa premessa fondamentale, attualmente in Parlamento sono in fase di discussione la conversione in legge di TED, che di legge è molto importante. Il primo è la legge di bilancio 2024, di cui è già stata fornita una bozza, che ha ottenuto anche la bollinatura, adesso inizierà il processo di discussione e conversione in legge. Ne ho già parlato in alcuni video pubblicati nelle scorse settimane. Inoltre, si stanno eseguendo anche le discussioni inerenti al decreto proroghe, che vedrà la scadenza il 28 novembre 2023, e poi il decreto anticipi, che scadrà il 17 dicembre 2023. Nell'ambito delle discussioni di questi tre decreti legge, verranno, è già stato, è già noto, verranno presentati diversi emendamenti che riguarderanno proprio, e saranno proprio inerenti, una richiesta di proroga nella scadenza del super bonus. Ora, sarebbe stato l'ottimale, siccome soprattutto nel mondo dell'edilizia in generale, le cose andrebbero fatte un pochino programmate nel tempo, sarebbe stata cosa buona che questa proroga fosse stata concessa già all'interno del decreto asset, che è stato già convertito in legge. Questo non è avvenuto. È vero che è stata presentata anche, diciamo, è stata presentata da parte del Partito Democratico un emendamento di richiesta di proroga inserito all'interno, diciamo, del decreto proroghe, e anche questa è stata respinta. Però bisogna, diciamo, sottolineare come, per quanto riguarda il decreto anticipi, è stato presentato un emendamento con richiesta di, diciamo, proroga nella scadenza del super bonus presentata direttamente da Forza Italia, che è un partito di maggioranza. Ora, il super bonus, in questo caso, la richiesta riguarda quegli edifici condominali che abbiano eseguito una delibera sui lavori condominali prima del 16 febbraio 2023, quindi che potessero sostanzialmente, e soprattutto, che abbiano eseguito entro il 31 dicembre 2023 almeno il 60% dei lavori complessivi. Per questi, in questi casi, è richiesta una proroga per la scadenza del super bonus nella sua riguarda maggiorata fino al 30 giugno 2024. Chiaramente, essendo un emendamento presentato da una forza di maggioranza, a mio avviso, c'è qualche speranza in più venga accettato rispetto a un emendamento presentato dal Partito Democratico, che è una forza d'opposizione, ma questa mi sembra una considerazione molto, anche piuttosto banale, per, diciamo, discorsi proprio anche di interesse a livello politico. Detto questo, ovviamente questa non rappresenta la soluzione ottimale, come detto, perché? Perché il decreto anticipi scadrà il 17 dicembre 2023, per cui, se dovesse arrivare questa benedetta proroga, arriverà a fine anno, proprio negli ultimi giorni del mese di dicembre, per cui, proprio alla fine, tutti gli attori impegnati nell'ipotetico cantiere che ha i lavori e che deve terminarli, si vedranno concessa o meno questa proroga. Sono ottimista, sono moderatamente ottimista da questo punto di vista, qualche speranza c'è obiettivamente, però vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Se effettivamente questo emendamento avrà un esito positivo e quindi se verranno convinte anche le altre forze di maggioranza nel votare questo emendamento oppure se si rimarrà all'attuale scadenza del 31 dicembre 2023. Vedremo quindi che cosa succederà, per cui, se volete rimanere aggiornati, vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina e rimanendo aggiornati sull'uscita dei prossimi video e se volete potete anche decidere di abbonarvi al canale. Ciao!